Ah 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 prova 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 prova! Oggi vediamo perché e come leggere i contatori del vostro fotovoltaico. Cosa serve per leggere il contatore? Un dito! Ciao a tutti e bentornati su andreapicinelli.net è vero la settimana scorsa ho saltato mi dispiace purtroppo è il periodo è abbastanza frenetico però insomma cercherò di mantenere la solita programmazione settimanale nel limite del possibile. Oggi parliamo di un argomento attualissimo cioè le letture dei contatori perché farle e soprattutto come. Dico attualissimo perché avete tempo solo fino al 31 gennaio per riuscire a recuperare i valori del vostro impianto fotovoltaico al 31-12 alla fine dell'anno scorso. Se state pensando vabbè chi se ne frega aspettate perché una volta visto questo video secondo me vi interesserà recuperare quei dati. Vediamo quindi perché tenere uno storico dei dati di produzione e di cessione del vostro impianto fotovoltaico. In primis annotarvi le prestazioni mese per mese del vostro impianto o almeno ogni anno vi dà la possibilità di analizzare la produzione il cui andamento può dirvi se l'impianto sta funzionando bene o se ha dei problemi ma anche l'energia che cedete alla rete. Questo valore, l'andamento della quantità di energia immessa vi permetterà di capire se ci sono delle magari delle piccole modifiche alle vostre abitudini che potete apportare per migliorare e massimizzare l'autoconsumo istantaneo. A parte questo vantaggio base valido per tutti ci sono casi in cui la lettura del contatore a fine anno non è solo una buona abitudine ma è necessaria, è obbligatoria. Chi lo deve fare? Quali sono quegli impianti che hanno l'obbligo di fare le letture a fine anno? Sicuramente tutti i proprietari di impianti sopra i 20 kilowatt ma loro spero che siano stati avvertiti in fase di attivazione dell'impianto perché hanno intestato un'officina elettrica quindi oltre all'obbligo di lettura a fine anno quelli in cui c'è autoconsumo hanno l'obbligo di fare le letture alla fine di ogni mese mentre quelli con cessione totale, gli impianti superiori a 20 kilowatt in cessione totale hanno l'obbligo solamente della lettura al 31-12. A parte gli impianti commerciali, industriali, quelli sopra i 20 kilowatt c'è un'altra categoria che sta diventando sempre più grande di impianti per i quali diventa importante fare la lettura alla fine dell'anno e cioè tutti gli impianti che non godono dello scambio sul posto perché a marzo, entro il 31 marzo dovranno fare la comunicazione fuel mix al GSE. Vi dice niente? Ve ne avevo già parlato esattamente un anno fa in questo video perché rientrano nell'obbligo di invio del fuel mix quindi tra gli impianti che devono assolutamente segnarsi le letture al 31-12 tutti gli impianti che hanno il ritiro dedicato e di conseguenza in questa categoria rientrano tutti gli impianti realizzati con il super bonus. Quindi se avete fatto il vostro impianto fotovoltaico con il 110% dovete inviare il fuel mix entro fine marzo. Ne riparleremo presto perché ancora non è aperto il fuel mix quindi molti di voi stanno avendo problemi nel tentativo di inviarlo proprio perché non è stata ancora aperta la raccolta dei dati ma la cosa urgente che dovete fare entro martedì a questo punto è prendere le letture dei vostri contatori ed ecco che a questo punto siamo arrivati alla parte del video in cui vi spiego come si fa a prendere la lettura di un contatore. Allora con l'aiuto di una lettura che ho fatto ieri tra l'altro partiamo dal contatore di produzione andiamo dal nostro contatore di produzione che è quello più vicino all'inverter quello probabilmente di fianco all'inverter del vostro impianto fotovoltaico per essere chiari il contatore di produzione è quello che non avevate prima di attivare l'impianto fotovoltaico quindi andate lì e pigiate l'unico tasto che c'è andate avanti finché non vedete numero cliente poi avrete tutta la parte di potenza istantanea poi ci sarà tutta la parte di prelievo lettura attuale e lettura precedente andiamo avanti finché non leggete lettura potenza emissioni ecco qui inizia la sezione delle emissioni cioè la sezione in cui il contatore vi dice quanta energia avete immesso a monte del contatore quindi nel caso del contatore di produzione quanta energia avete prodotto con il vostro impianto fotovoltaico emissioni periodo attuale periodo attuale vi dà il valore progressivo aggiornato al momento in cui state leggendo il contatore quindi non è quello che ci serve se volete la lettura al 31 dicembre e state leggendo il contatore a gennaio i valori che dovete assegnarvi sono quelli del periodo precedente quindi andiamo avanti finché non leggiamo periodo precedente ecco adesso ci sono varie versioni di contatori in giro quindi potrebbe differire leggermente la dicitura che troverete sul vostro display comunque dovete entrare nella sezione emissioni periodo precedente nei contatori nuovi anziché periodo attuale periodo precedente troverete periodo corrente e periodo FAT-1 cioè periodo di fatturazione del mese precedente comunque non preoccupatevi insomma per vedere i dati nel momento in cui state leggendo leggete quelli del periodo attuale o corrente per vedere quelli all'ultimo giorno del mese precedente al momento in cui state leggendo dovete andare a vedere le emissioni periodo precedente o periodo fatturazione meno 1 tra parentesi quindi siamo arrivati alle nostre emissioni periodo precedente andiamo a segnarci A1, A2 e A3 che sono i valori dei kWh divisi nelle tre fasce tarifarie e per sapere quanto abbiamo prodotto con l'impianto fotovoltaico fino al 31 dicembre 2022 basta che facciamo A1 più A2 più A3 il totale è quanta energia avete prodotto con l'impianto fotovoltaico ricordatevi che è una lettura progressiva quindi se il vostro impianto è stato attivato quest'anno quella che andrete a leggere è effettivamente la produzione del 2022 se invece il vostro impianto è stato attivato nel 2021 sempre che abbiate disponibili le letture a 31 12 2021 dovrete andare a fare la differenza cioè prendere la somma di A1, A2 e A3 e togliere la somma di A1, A2 e A3 che avete letto nel 2021 passiamo ora al contatore di scambio perché il valore della produzione l'abbiamo già ricavato andiamo nell'altro contatore quello che già avevate prima di avere il fotovoltaico che magari vi hanno sostituito nel momento in cui hanno attivato l'impianto andiamo a quel contatore lì che è chiamato contatore di scambio o di immissione stessa cosa basta appiggiare l'unico pulsante che c'è e andare avanti finché non leggiamo lettura potenza prelievi... arriviamo a immissioni periodo precedente anche qui dobbiamo prendere esattamente gli stessi dati quindi immissioni periodo precedente A1, A2 e A3 e il totale sarà la quantità di energia prodotta dal vostro impianto fotovoltaico che avete immesso in rete come prima se l'impianto è attivo dal 2021 dovrete sottrarre i valori del 2021 se avete attivato quest'anno quella è il totale dell'energia che avete ceduto alla rete e ricordatevi che per il fuel mix quei kilowattora sono il valore che dovete inserire sul portale piccola parentesi ricordatevi che il valore che mettete sul portale fuel mix è in megawattora quindi mille kilowattora quindi il valore che ricavate dai contatori lo dovete dividere per mille ultimo concetto per chiudere questo tema delle letture la differenza tra l'energia prodotta ricavata dal contatore di produzione e l'energia immessa in rete ricavata dal contatore di scambio o di emissione è il valore dell'energia autoconsumata quindi se la differenza tra l'energia prodotta e l'energia immessa è molto alta vuol dire che state usando bene il vostro impianto fotovoltaico state riuscendo a autoconsumare molta energia bene spero che questo video vi sia stato utile se lo è stato ricordatevi di lasciarmi un like di condividere con i vostri amici oppure se vi è stato molto utile e volete lasciare un super grazie alla nuova funzionalità di youtube i verissimi di farlo per sostenere il canale io come al solito vi ringrazio di essere arrivati alla fine di questo video e vi do appuntamento alla prossima settimana impegni impellenti permettendo un saluto da andrea piccinelli.net il video di oggi finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per stare aggiornati sull'uscita dei nuovi video vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi in particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole che vi da oltre a vantaggi social su youtube anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con Sunreport per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera il modulo per l'iscrizione a archivi e installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario che sono già attivi sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti i canali social Facebook, Linkedin, Instagram, il mio sito il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico Times ha a uted tanta ma ڈ